Musica Sai Nicolo, l'altro giorno, nel weekend, mi è capitato di andare in montagna Bello sì, questa sensazione di distacco che hai dalla vita normale Però, secondo te, perché proprio sulla cima delle montagne ci costruiscono delle croci? Come treppi sullo Sperone o così? Beh, perché è un posto elevato e di solito noi associamo Dio al cielo, appunto Gesù, in fondo, era parte della triade Padre, figlio, spirito santo Sì, sa cosa è la triade Ecco C'era un altro episodio a proposito di montagne, no? Te lo ricordi? Eh sì, mi pare che si parla nella Bibbia Sì, sì, quello degli ebrei dopo il deserto, cos'era? Non me lo ricordo bene, in realtà Non mi sfugge il nome Io direi di domandarlo a Don Mirko Sì, esatto Ciao Nicolo, ciao Zeno Buongiorno Don Salve Di cosa stavate parlando? Delle montagne E ci era venuto in mente questo ricordo di una montagna particolare nella Bibbia dopo il deserto Ah certo, bel episodio del Sinai Ecco Ma non è solo un episodio importante Pensate che nel cammino di Israele fuori dall'Egitto, nel deserto, a un certo punto ci sono i fatti del monte Sinai Concretamente l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele Ed è un punto così importante che pagine e pagine della Bibbia si fermano proprio su questo momento Del popolo di Israele che è ai piedi del monte Sinai Mosè sale e riceve le leggi di Dio E poi il popolo resta lì Ecco per tanto tanto tempo Proprio perché l'episodio del monte Sinai è direi quello centrale Centrale rispetto a tanti altri eventi che stiamo vedendo Leggiamo allora il testo, siamo al capitolo 19 del libro dell'Esodo Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto Nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai Levate le tende, giunsero al deserto del Sinai dove si accamparono Israele si accampò davanti al monte Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto E come ho sollevato voi su ali di aquile E vi ho fatto venire fino a me Molto bello questo voi avete visto Cioè Dio si presenta e si presenta dicendo Guardate che io sono una persona che si è già fatta conoscere Avete già visto come vi ho liberato dall'Egitto In condizioni di disperazione da parte vostra, di schiavitù Io sono intervenuto, ho agito Vi ho in maniera miracolosa permesso di superare questo mare, queste acque Vi ho in maniera miracolosa salvato nel deserto Dalla morte per sete, dalla morte per fame Vi ho salvato dai nemici, dai popoli nemici che hanno attaccato battaglia contro di voi E quindi voi dovreste fidarvi di me, conoscermi Per questo motivo adesso dice Dio Se darete ascolto alla mia voce e continuerete e custodirete la mia alleanza Voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli Mia infatti è tutta la terra Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa Ah, a proposito, una nazione santa Ma perché proprio solo una nazione se Dio è il Dio del mondo? La tua domanda è una domanda difficilissima, Zeno Cioè, è vero, Dio che è Dio di tutto il creato Che ha creato tutto il mondo Che è il Signore della storia e che ama tutti gli uomini A un certo punto della storia ha fatto alleanza con un solo popolo Con il popolo di Israele E quindi la nostra obiezione potrebbe essere qualcosa del genere Ma allora Dio fa preferenze Ma allora Dio guarda qualcuno e non guarda altri E tutti noi immagino che voi a scuola e in tanti momenti della vita Siete assolutamente allergici alle preferenze Siamo tutti noi allergici alle preferenze È vero però che se pensiamo ad altre esperienze L'esperienza dell'amicizia, l'esperienza dell'amore È chiaro che ciascuno di noi ha una predilezione per qualcun altro Per qualche altra persona Senza con questo voler dire che le altre persone per noi non esistono Sono poco di buono O sono un problema per noi Capite? Noi comunque nella nostra vita facciamo dei gesti che di fatto E delle scelte che di fatto ci legano in maniera particolare a delle persone Rispetto che ad altre Senza per questo voler dire niente di male Di tutti quelli che non conosciamo O con i quali non siamo così familiari Questa mi pare una prima precisazione E poi direi che Questa unicità del popolo di Israele Potrebbe avere tre spiegazioni O meglio ci sono tre riflessioni che possiamo fare Prima di tutto Perché Dio sceglie Israele come popolo? Israele non era assolutamente un popolo forte e potente Quindi Dio in un certo senso ha scelto male Non ha scelto un alleato potente Normalmente le nazioni quando fanno guerra Scelgono alleati potenti Con tante armi Con tanto denaro Con tanta ricchezza Dio invece ha scelto E lo ha anche detto Dio Il popolo forse più piccolo di tutti Il popolo più maltrattato Più bastonato di tutti E lo ha liberato Perché fosse chiaro Che la benedizione che poi ha raggiunto Israele Non fosse merito loro Ma fosse merito di Dio Intervento di Dio E quindi Dio ha scelto un popolo piccolo Per manifestare in realtà La sua grandezza La sua potenza Il suo amore È difficile manifestare il proprio amore Verso una realtà che è già perfetta Che non ha bisogno di fasciare le ferite Che non ha bisogno di essere consolata Di essere coccolata E di essere valorizzata Molto più significativo invece È dimostrare amore verso una realtà Che è povera Che è fragile Che è debole Che è uscita con le ossa rotte Dalla schiavitù d'Egitto E che ha bisogno di un gesto di amore E di un gesto di vicinanza Quindi direi che La scelta di Israele Non è intanto Perché è un popolo migliore di altri Ma anzi eventualmente Perché è un popolo più debole di altri E di fronte a questa debolezza Dio può manifestare più di tutti Il suo amore Un secondo aspetto Potremmo aggiungere a questo primo motivo E cioè Dio ha scelto Israele Perché Israele diventasse Una sorta di faro Per tutta l'umanità Cioè il faro attira a sé Il faro permette di vedere Israele Scelto da Dio come popolo dell'alleanza È chiamato a rispettare La legge, i comandamenti A rispettare i precetti di Dio A vivere e a rispondere A questo amore di Dio E come si fa a rispondere all'amore Solamente con altrettanto amore Si risponde alla carità Con altrettanta carità Israele diventando un faro Per le altre nazioni È un popolo Che nella sua carità Nel suo amore verso Dio E nel suo amore verso le altre persone Diventa un esempio Un modello per tutti gli altri popoli Anche qui vedete allora Che non è un'elezione Per proprio uso e consumo Ma Israele è una missione Quella di essere faro Presso gli altri popoli E allora passiamo a un terzo motivo Israele è il popolo scelto da Dio Per essere a servizio Delle altre nazioni Qui ancora più forte Questa dimensione del servizio Come una persona Che viene incaricata A cui viene affidato un certo compito Che non è assolutamente di gloria Di onore Ma spesso è una responsabilità pesante Impegnativa A favore di altri Immaginatevi Una persona Che diventa animatore Di un gruppo giovani Una persona Che è responsabile Di un campeggio Una persona Che è responsabile Di un gruppo di studenti Spesso Sono molti di più I problemi Quelle che noi chiamiamo Le rogne Che gli onori Sono molti di più Gli oneri Che gli onori E così direi è anche per Israele Non deve tanto gloriarsi Di essere scelto dal Signore Ma deve rendersi conto Che ha una missione speciale Un ruolo di servizio Verso gli altri La possibilità Di essere faro Per gli altri Nella storia Riconosco Nella storia di Israele A volte il popolo Invece Ha detto Noi siamo il popolo eletto Siamo meglio degli altri Noi siamo il popolo eletto Vuol dire che Dio Ci salverà sempre Ci difenderà sempre Possiamo fare quello Che vogliamo Perché a noi Andrà sempre bene Avendo Dio dalla nostra parte E ai nostri nemici Andrà sempre male Perché Dio è contro di loro Quando il popolo Si inorgoglisce E fa questo ragionamento Completamente sbagliato Si prenderà Delle terribili botte Sui denti Quindi vedete come L'elezione Da parte di Dio Non vuol dire Escludere le altre nazioni Dal suo amore Non vuol dire Screditare Tutti gli altri popoli Vuol dire Chiedere a Israele Un compito Un servizio Di fronte agli altri Ha sbagliato Israele E sbagliamo anche noi Chiunque di noi Ogni volta che Si inorgoglisce Per la sua posizione Per il suo ruolo Per il suo compito E dimentica di essere A servizio E approfitta invece Del suo ruolo Per spadroneggiare Vi ricorderete forse Che anche Gesù Ha detto Attenzione Io sono venuto Non per essere servito Ma per servire Israele Ha sbagliato Quando Ha pensato Che essendo il popolo eletto Dovesse essere servito Dagli altri La dimensione vera Di essere il popolo Del Signore È quella di essere A servizio Degli altri Andiamo avanti Fatta questa premessa Il Signore disse a Mosè Ecco io sto per venire Verso di te In una densa nube Perché il popolo Senta quando io Parlerò con te E credano per sempre Anche a te Mosè riferì al Signore Le parole del popolo Il Signore disse a Mosè Va dal popolo E santificalo Oggi e domani Lavino le loro vesti E si tengano pronti Per il terzo giorno Perché nel terzo giorno Il Signore scenderà Sul monte Sinai Alla vista di tutto il popolo Fisserai per il popolo Un limite Tutto intorno Dicendo Guardatevi Dal salire sul monte E dal toccarne le falde Chiunque toccherà il monte Sarà messo a morte Nessuna mano Però dovrà toccare costui Dovrà essere lapidato O colpito Con tiro di arco Animale o uomo Non dovrà sopravvivere Solo quando suonerà il corno Essi potranno salire sul monte Parecchio Intrigante questa cosa Perché i fedeli Non possono Vedere Dio O arrivarci vicino Sì Il testo è molto chiaro Diremo noi anche esagerato Non si può Superare il limite Che Mosè traccia sul monte Chi supererà il limite Sarà messo a morte Ma non dovrà essere Ucciso toccandolo Ma solo ucciso alla distanza Cioè il testo si dilunga Su qualcosa per noi Davvero Scomodo E un po' difficile da spiegare Potrei dire così Nicolo Che L'alleanza sul monte Sinai È l'alleanza tra Dio E il popolo di Israele Ma Dio è così intangibile Così altro Rispetto al popolo Così in alto È Dio Rispetto a questo mondo Che è necessario Fissare un limite Dio non si può vedere Faccia a faccia Dio Non può essere Incasellato Non può essere Descritto Non può essere Toccato Dio è sempre sfuggente C'è una sacra distanza E lo viviamo anche noi In qualche modo Quando segnaliamo La differenza Tra l'ambiente esterno A una chiesa E l'ambiente interno Ci sono dei riti Nel Attraversare la soglia Di una chiesa Che sono significativi Siamo entrati In uno spazio sacro Non è tutto uguale Ci sono dei limiti Anche nella vita Di tutti i giorni Nella vita civile Sappiamo che ci sono Dei limiti Che non possiamo Oltrepassare Ad esempio Con le persone Verso le quali Non abbiamo confidenza Non possiamo Metterci vicinissimi Ogni persona Rispetto a noi Tiene una distanza Che è data Dalla nostra intimità Dalla nostra confidenza Dal nostro rispetto Ci sono delle aree Dove l'accesso È vietato Ci sono delle aree In cui si può accedere Solo a determinate condizioni Ecco Nella nostra vita Nella vita religiosa Nella vita civile Tante volte Noi fissiamo Dei limiti Che non sono Un modo per rovinare La festa Ma sono un segno Di rispetto E di consapevolezza Di dove siamo Inseriti E di quello Che noi stiamo vivendo O celebrando Il terzo giorno Sul far del mattino Vi furono tuoni e lampi Una densa nube E un suono Fortissimo di corno Il monte Sinai Era tutto fumante Perché su di esso Era sceso Il signore nel fuoco Ma Scusa Se ti interrompo Ma come mai Non mi è ben chiara Il perché Come Perché Dio si Si presenta sempre Sotto forma di fuoco Sì Allora Potremmo dire due cose Il signore si manifesta Nel fuoco Perché il fuoco Il fuoco Del rovetto ardente Il fuoco Della colonna Di fuoco Che accompagna il popolo Nell'uscita dall'Egitto È allo stesso tempo Qualcosa che attrae E qualcosa Da cui fuggire Perché il fuoco Da un lato fa luce Dall'altro però scotta Ed è pericoloso E così anche Dio Dio è intangibile La fiamma è guizzante È bello vedere il fuoco Tutti si avvicinano Quando vedono un fuoco Ma bisogna stare anche distanti Il fuoco è vivo È impalpabile È sfuggente Direi che tutti questi Sono i tratti di Dio Ma forse ancora più interessante È che Dio si manifesta Attraverso tuoni Lampi Una sorta di tempesta Unita Qui in questo brano A un'eruzione vulcanica A un terremoto Quando Dio entra in scena Non può essere L'entrata in scena Banale di una qualsiasi persona Ma Dio è il Signore della natura Quando Dio entra in scena La natura si scatena Per indicare la maestà E la grandezza di Dio Ci chiama teofania Dio appare Manifestandosi E la natura Risulta sconvolta Perché Dio sta entrando in scena Grazie a tutti